Cari telespettatori, buonasera e bentornati a Primo Cittadino, come vi ha annunciato poco fa il direttore Marco Ferri. Questa sera è nostro ospite il sindaco di Fano Massimo Serri. Buonasera sindaco. Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori. Come sempre i numeri di telefono per intervenire in diretta e che troverete sempre in sovrimpressione 0721 86 14 33. Vi risponderà Cristiana e potrete parlare direttamente con il sindaco di Fano oppure potrete mandarci un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco partiamo subito dalla situazione dei contagi perché la regione Marche ci dà appunto la possibilità di vedere un po' qual è la situazione nei vari territori, nei vari comuni. Vediamo che in quarantena o in isolamento qua a Fano attualmente ci sono 629 persone di cui positivi 423. Un numero importante, non è poi così basso. Abbiamo visto che anche lo scorso fine settimana si sono verificati degli assembramenti, ancora tanta gente senza mascherina. Opera di sensibilizzazione che è stata fatta dai volontari, dalle forze dell'ordine, però forse ancora c'è qualcosa che non va. Sì, i numeri sono ancora significativi, adesso non ne fanno all'apice rispetto anche ad altre realtà, però sono numeri importanti, quindi le misure che sono state adottate hanno una logica ed è importante rispettarle, perché come ricordo spesso il primo elemento per tutelarci sono i nostri comportamenti. E devo riscontrare che purtroppo non sempre siamo così ligi nel rispettare le regole. Quindi l'invito che voglio rivolgere anche questa sera è proprio quello anche nei prossimi giorni, che saranno giorni di maggiore intensità, di rispettare le regole essenziali, quelle di evitare assembramenti, rispettare insomma tutte le indicazioni che vengono date, le restrizioni che ci sono, indossare la mascherina quando siamo insieme ad altri. Per il resto, insomma, l'auspicio è che possiamo uscire presto da questa situazione. I vaccini stanno proseguendo, perché al di là di tutto, penso, l'unico strumento vero per creare l'immunità di greggia sia vaccinare tutte le persone. Abbiamo dato la notizia nel corso del nostro telegiornale intanto di alcune disfunzioni che ci sono state per le vaccinazioni per la fascia di età 70-79. La Regione Marche fa sapere che comunque sono state tante le prenotazioni. Nelle prime sei ore di apertura della piattaforma ben 46 mila. Abbiamo oltre sì mandato in onda un servizio su quello che succede al punto vaccinale del CODMA di Rosciano a Fano, perché a differenza di quanto accaduto ad esempio nella vicina Pesaro al centro Monaldi dove si sono verificate file ma anche tanti assembramenti, l'organizzazione qua invece funziona. Sì, non mi piace fare paragoni, però devo onestamente riscontrare che per quello che riguarda l'organizzazione che c'è nella nostra città, ma non soltanto adesso, con i tamponi, in tutte le situazioni particolari, l'organizzazione ha sempre funzionato. Tant'è che si è parlato poco perché ovviamente si evidenzano sempre quando le cose non funzionano al meglio. Qui c'è stata una grande organizzazione, una grande efficienza. Voglio anche ringraziare oltre ovviamente a tutti gli operatori sanitari che sono fondamentali, che svolgono sempre un lavoro importante, ma anche tutti i volontari della Croce Rosa, della Protezione Civile, che ovviamente per quello che riguarda noi fanno un lavoro straordinario a cui devo un grande ringraziamento perché grazie a loro noi riusciamo sempre ad eccellere nell'organizzazione, nell'emergenza e nel dare le risposte più appropriate alla gente. Allora, cominciamo a leggere qualche messaggio. Perché il centro di raccolta differenziata dell'ASET è chiuso e possono lavorare in sicurezza all'aperto? Proprio su questo dobbiamo dare un aggiornamento. Perché ASET fa sapere che dopo la chiusura dello scorso 10 marzo dovuta all'ingresso in zona rossa, vengono riaperti i centri per la raccolta differenziata. Grazie a nulla ossa concesso dalla Prefettura di Pesero Urbino, da domani si potrà accedere a tutti i centri, quindi fanno calcinelli di Colleal Metaurum, anche Pergola. Gli utenti possono recarsi nel centro raccolta del proprio comune o comunque in quello più vicino al domicilio. Gli accessi avverranno senza prenotazione, ovviamente in totale sicurezza nel rispetto di tutte le norme anti-Covid. Sì, fra l'altro su questo devo dire che diversi cittadini nei giorni scorsi mi avevano contattato, hanno contattato la presidenza di ASET e ci si è adoperati. Adesso è questo il risultato, grazie ovviamente al nulla ossa concesso dalla Prefettura, perché sappiamo quando ci sono certe restrizioni e competenza della Prefettura autorizzare, noi ci siamo adoperati e oggi possiamo dare questa buona notizia. Un'altra notizia, Sindaco, che dobbiamo dare è che domani verranno svolte delle verifiche su due ponti in particolare. Sì, anche su questo è importante perché inevitabilmente quando si fanno queste operazioni ci saranno dei disagi nella viabilità, in particolare il ponte andando verso Pesaro, lì qualche problemino si creerà, quindi avvertiamo anche i cittadini che se magari si devono spostare di farlo con qualche minuto d'anticipo. E l'altro è quello dell'Ido, se non sbaglio. Abito in zona Vallato, ci sono alcuni marciapiedi ammalorati ma anche pericolosi per i bambini e quindi chiedono se sono previsti dei lavori. Abbiamo anche un altro messaggio. Ciao Massimo, visto che l'assessore Brunori sta intervenendo su punti di degrado della città è ormai urgente intervenire su tanti cordoli di marciapiedi di aiuoli e di rotatori ma anche marciapiedi stessi in più posti della città. Intanto facciamo gli auguri all'assessore perché oggi è il compleanno. E poi che cosa possiamo rispondere a questi cittadini? L'assessore si sta adoperando molto in questo contesto. Adesso ovviamente c'è un'attenzione particolare in quelle zone balneari. Ci stiamo avvicinando all'estate quindi bisogna farsi trovare preparati. Ovviamente gli interventi sono tanti. Stiamo destinando delle risorse anche importanti per tutta una serie di interventi. Anche tornando alle questioni delle strade che ci venivano segnalate anche nella trasmissione nel primo cittadino del mese scorso. Devo dire che abbiamo già fatto una riunione operativa. Abbiamo individuato tante di quelle strade che ci sono state segnalate da inserire nel nuovo programma delle asfaltature. Per cui il telespettatore che ha inviato questo messaggio ha perfettamente ragione. Non si può dare risposta ovviamente in tempo reale a tutte. Con una programmazione, col tempo, cerchiamo di arrivare un po' in tutte le zone. Ci segnalano uno stato di abbandono dietro il pesce azzurro della comra pesca del ristorante giapponese Vitale. Comunque lì dietro c'è un'isola ecologica. Siamo invasi da topi. Ci hanno inviato anche un'immagine perché effettivamente ci sono delle buche scavate intorno ai cassonetti. Hanno chiesto all'ASDET di intervenire ma ancora non si vedono lavori in questo senso. Quindi magari se anche gli operatori sono all'ascolto. Sulle scogliere di Sassonia è calato il silenzio assoluto. Che cosa sta succedendo, Sindaco? Beh, il silenzio, tutto sommato, quando cale il silenzio è anche positivo perché significa che le cose vanno per il giusto verso. Prima dell'inizio dell'estate i lavori, la parte restante verrà ultimata. Quindi tutto procede, insomma. Chiedono se il punto del CODMA possa essere sufficiente quando poi si andrà a pieno regime oppure bisognerà cercarne anche un altro. Beh, su questo ci attrezziamo ovviamente in base alle esigenze. Ci confrontiamo anche con l'area vasta che è deputata a organizzare le vaccinazioni. Fra l'altro anche con i medici. Adesso c'è stato anche l'accordo per le vaccinazioni che verranno effettuate anche dai medici di famiglia che hanno aderito. Per cui in base alle necessità cerchiamo di dare risposte come abbiamo sempre fatto anche in passato. Però dobbiamo tenere conto che l'area del CODMA è un'area che dà tante risposte. È un sito che vale per più siti che si possono organizzare nella città. Soprattutto è comoda. È comoda per arrivarci, è comoda con la macchina, per parcheggiare. Quindi ha tanti elementi positivi. Sindaco, sa quando partiranno i lavori per l'acqua a Sant'Andrea a Finile? Non glielo so dire, però ci sono quindi nella scala degli interventi. Sentiamo subito chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera. Salve. Buonasera. Sì, volevo fare due domande al Sindaco. Sì, prego. Grazie. Io chiamo per un punto di strada che non esiste praticamente luci e sono da Rosciano ando verso Cucurano. L'iniezione finisce davanti all'idalceraniche e poi riprende su davanti ai capannoni dell'ex frattivi. Quello è un punto di strada molto buio e molto pericoloso. Qui parliamo sempre di piste ciclabili, però bisognerebbe anche parlare un po' di mettere in sicurezza anche i ciclisti e i pedoni. Questa è la prima. E volevo sapere da Silico cosa ne pensano. E poi le permetto che io ho fatto anche una richiesta, praticamente al protocollo, l'ho depositato al protocollo, il 27 novembre 2015. Da allora non ho avuto più risposta. E poi volevo sapere anche... Il merito ai lampioni? Il merito all'illuminazione? Io parlo di luci, sì, di luci, perché non esiste luci. Lì non esiste proprio... È buio completo. Ed è molto pericoloso. Sì, se non la conosco bene questa. Saranno un chilometro, un chilometro e mezzo di strada, non lo so. E poi, siccome io ho anche una parte interessata, in via del giardino, c'è un fosso sulla strada, c'è un fosso praticamente proprio sul lato destro, che questo fosso si riempie sempre di terra. Io ho chiamato diverse volte, volevo anche un incontro con lei, ma è un po' impossibile parlare con lei. Questo fosso praticamente ha creato dei danni 4-5 anni fa. Adesso è di nuovo pieno. Quindi, se dovesse fare praticamente un disastro come è successo 4-6 anni fa, siamo punto da capo. Perché questo fosso si è riempito di terra un'altra volta. Quindi, per me, è una cosa molto pericolosa. Quindi, non so, vedo a lei cosa possiamo fare. Ok, partiamo, grazie per le segnalazioni. Partiamo da Rosciano Cucurano, quindi la messa in sicurezza. Sì, allora, quello è un tratto che conosco bene, anche perché lo frequento quotidianamente. Effettivamente, quei tratti indicati sono tratti bui. Bisogna essere onesti quando si dicono le cose. In previsione, nel breve periodo, non c'è in programma l'installazione di nuovi punti luce. Li abbiamo fatti due anni fa, in un'altra strada importante, pericolosa, molto frequentata dai ciclisti, che è quella che da bell'occhi porta verso Rosciano. Poi questo è un tratto anche provinciale, se non sbaglio, la competenza. Però, ecco, effettivamente è una strada, la Flaminia, frequentata. Fra l'altro c'è anche un problema della velocità, che purtroppo in quella strada, specialmente nelle ore serali, è sostenuta. Anche su questo stiamo facendo dei ragionamenti per installare anche dei punti di prelievo della velocità, perché ovviamente con le raccomandazioni purtroppo non si ottengono sempre risultati e il tasso di pericolosità è alto. Quindi stiamo facendo anche dei ragionamenti di questo tipo. Per cui tengo presente l'osservazione che ha fatto il cittadino. Adesso andrò a cercare anche la lettera che è stata inviata a novembre. Probabilmente è chiaro che si scrive sempre al sindaco, però il sindaco non può leggere tutte le lettere, poi vengono smistate in base alle competenze e alle... Quindi ai vari uffici, insomma. Sì, adesso comunque magari provo a ricercarla attraverso il protocollo. Per quello che riguarda il fosso in via del giardino, devo dire che insomma negli ultimi anni la manutenzione è stata abbastanza frequente per quello che riguarda i fossi della nostra città. Quando sono arrivato ricordo che la situazione era particolarmente critica. Da allora abbiamo fatto anche alcuni protocolli, convenzioni, collaborazioni, anche col consorzio di bonifica e devo dire c'è una manutenzione con una certa regolarità. Poi è chiaro, ci sono alcuni particolari che vanno meglio approfonditi. Adesso su questo ha fatto bene il telespettatore a segnalarlo. Io me lo sono segnato anche qui nel mio taccuino e quindi lo faremo verificare. Abbiamo un altro telespettatore o telespettatrice che vuole parlare con lei. Buonasera. Ci è caduta la linea, proveremo a ricontattare questa persona. Quando si potrà riavere il negozio di genere alimentari a Ponte Sasso, un grande quartiere senza alimentari ma anche senza farmacia? E sa che cosa possa essere successo? Questo non dipende ovviamente dal sindaco. Qui ovviamente queste attività commerciali, le regole le ha dette il mercato perché un negozio rimane aperto, si ha una sostenibilità economica altrimenti non riesce a reggere. Quindi ecco il problema penso sia di questa natura da parte nostra. Nulla osta che ci possano essere strutture di questo tipo ovviamente, anzi le auspichiamo, però ecco non è che può essere in comune che apre un negozio alimentare. Certo. Dovremmo aver ripristinato la telefonata. Buonasera, ci sente? Sì, sì, grazie. Eccoci qua, prego. Pronto? Sì, buonasera. La sentiamo? Sì. Io sono Rupoli Luciano. Sì. E telefono da via Magalotti qui a Sant'Orso. Sì. Per segnalare che in fondo alla via, incrocio con via Soncino, con via Belandra, la strada di Belocchi, c'è una vecchia aiuola che fa da sparti traffico e che voi sapevate già e ci avete detto che la rimettevate a posto con una piccola rotatoria. In questo momento stanno scavando quelli delle acquedotti che sono proprio sopra a quel punto lì che è tutto terreno comunale. e io chiedo se si può fare qualcosa perché quando riasfalteranno le strade poi non si può fare più niente. Quello è anche un posto un po' pericoloso perché la via che sta davanti, mi ricordo il nome, girano tutti a sinistra che invece è vietato, che va verso Belocchi. E si scelgono anche degli incidenti. Lì il pezzo di via dalla palestra di Sant'Urso andando verso Belocchi è abbandonata. Ci sono tutti i marciapiedi con i cordoli alti 20 centimetri, mezzi rotti. Ho visto che prima avete fatto tutto nuovo, tutto bello. Sarebbe da allungare fino quasi al distributore, non lo so. Su questo do delle buone notizie, nel senso sono previsti ulteriori interventi, abbiamo avuto anche un finanziamento del progetto famoso che riguarda via Bellandra, adesso non voglio fare confusione con le vie perché sono tante, dove faremo tutta una serie di interventi, zona 30, con ciclabile, sistemeremo anche i marciapiedi, faremo le asfaltature. Quindi sono previsti nel breve periodo interventi significativi. Ovviamente quando ci sono lavori di sottoservizi eseguiti da ASET, poi c'è il ripristino e quindi come penso avverrà anche in questo caso, però ecco, avendomelo segnalato, magari ci faccio un'attenzione particolare e verificherò anche questa cosa. Però ecco, posso garantire che abbiamo previsto interventi, una parte sono già stati appaltati e andranno, adesso ho sempre paura di dare le date perché vengo puntualmente smentito perché alcune volte è più efficace, più efficiente, più veloce il pubblico del privato perché noi affidiamo i lavori, poi il privato che interviene ha delle regole, delle tempistiche da rispettare ma c'è sempre un ventaglio. Poi sono quelli che il ventaglio lo ristringono e quelli che lo allungano. Però detto questo, lì sono diversi sia nella parte nuova che nella parte vecchia del quartiere. Sindaco, ci chiedono intanto se ci sono delle novità riguardanti il teatro romano, poi che fine hanno fatto le asfaltature ma anche la caserma dei vigili del fuoco, il collettore, insomma un po' di risposte se può darle perché ci dico, insomma aspettiamo questi lavori. Allora intanto mi sento di dire che la città è un cantiere aperto, sono tanti i cantieri, forse su questo non sempre siamo bravi a comunicare e a raccontarlo, però ecco sono tanti i cantieri partiti, alcuni devono partire. Teatro romano, proprio questa mattina ho effettuato un sopralluogo con la sovrintendenza, abbiamo, come già è stato annunciato, abbiamo messo delle risorse a disposizione per fare ulteriori indagini, sono in pieno regime queste indagini, stanno emergendo cose interessanti, ma era prevedibile considerando il luogo e la parte centrale della romanità, della fanum fortune, quindi è un luogo veramente interessante che noi vogliamo valorizzare. Facciamo vedere anche le immagini, l'acquisto che abbiamo fatto dell'ex Finlanda diventerà un'occasione straordinaria per la città, abbiamo accelerato anche il lavoro per definire anche l'obiettivo perché diventerà una scheda progetto anche da segnalare per il recovery plan. Per quello che riguarda i lavori stiamo programmando per subito dopo Pasqua, anche con la stampa, una visita in modo tale che possiamo rendere i dotti e far conoscere gli sviluppi di questi sondaggi che si stanno effettuando alla cittadinanza. Quindi mi sento di dire che stiamo procedendo a pieno regime perché oltre a questi lavori di indagine ci sono anche i lavori per la verifica statica dell'edificio per capire cosa se c'è necessaria una demolizione oppure possiamo intervenire letteralmente su quella struttura. L'ex caserma, no l'ex, la nuova caserma di vigile del fuoco è tutto a posto, però anche qui la burocrazia ci uccide, anche a noi sono sempre passaggi su passaggi perché ogni cosa che facciamo deve avere la vidimazione del Ministero, però è chiuso, adesso deve solo decidere la ditta quando iniziare i lavori. Però penso che sia questione di poco tempo, il tempo di organizzarsi, fra l'altro da quello che mi risulta la ditta ha anche intenzione di accelerare, quindi vuole fare i lavori nel miglior tempo possibile, quindi abbiamo fatto aspettare tanto, però questo è andato al di là della nostra volontà, purtroppo i vari passaggi tra Ministero e amministrazione tendono sempre a allungare i tempi. Per l'estate, fine dell'anno? No, no, adesso entro l'estate iniziano, sì, 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 guarda, dobbiamo iniziare per febbraio, però come dico non pronuncio più una scadenza perché puntualmente mi slitto di un mese, di due settimane, di un mese e mezzo e poi sembra che sono io che dico bugie. In realtà quando io do una data è perché vi arrivano indicazioni che vanno in quella direzione. Dovremmo avere una telefonata. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Buonasera. Il sindaco è qua che l'ascolta. Senta, io vorrei chiedere al signor sindaco, quando si decide il comune di asfaltare quella strada dopo di Via Lelli che fa parte di Via del Ponte, è una stradina, saranno 100 metri, sì e no, che sarebbe un vincolo cieco, insomma, che va proprio dietro al campo sportivo. Sì, quella che va dalla strada che porta al pronto soccorso e gira dietro lo spogliatoio. Che va dietro al campo sportivo. dietro lo spogliatoio, esatto, quello è un vincolo cieco. Quello, quando ci è stato assegnato quel palazzo che era di case popolari, nel 78, è stata asfaltata nel 79 e da allora non è stata più asfaltata. Quando si sono verificate delle buche, noi abbiamo avvisato l'amministratore che c'erano delle buche abbastanza grosse, l'amministratore ha preso il suo muratore e veniva a far tappare le buche e pagavamo noi. Ma quella è una strada comunale. Non possiamo accavallarci una spesa noi. No, no, ci mancherebbe altro. Poi io che sto telefonando, ho avuto un colloquio con lei, signor Sindaco. Eravamo io, l'amministratore Giunti e un certo Paolo Gritta. Comunque, avevate già fatto questa richiesta, giusto? Al Sindaco. No, io vorrei sapere quando il Comune si decida ad asfaltare questa strada. Quando interverrà, Sindaco? Adesso non ce la sentire quando interveniamo. L'ho appena detto, lo anticipavo prima, che stiamo inserendo un elenco importante di strade che andremo ad asfaltare. Nella programmazione metteremo un paio di milioni, quindi anche le strade segnalate la volta scorsa. Sì, poi noi diamo un criterio di priorità e la priorità è data dallo stato di degrado delle strade e soprattutto dal peso del traffico che è sostenuto. E teniamo conto anche di alcune strade periferiche che non hanno un alto tasso di traffico, però sono indispensabili per coloro che vivono in quella zona. Abbiamo visto l'immagine anche la volta scorsa, come una strada di mezzo. Insomma, queste le monteggiove, queste le inseriremo tutte. Chiediamo un po' di pazienza nella tempistica perché dobbiamo fare la progettazione, perché anche per asfaltare le strade occorre una progettazione, la gara d'appalto, con le tempistiche che ci sono, però posso magari per la prossima volta vengo anche con l'elenco delle strade che abbiamo individuato. Chiedono anche via del ponte. Via del ponte, se non sbaglio, via del fiume. Adesso ci sarà anche un'estensione dell'illuminazione prevista. Via Ruggeri, via del Bersaglio e anche laggiù nella zona mare ci chiedono di mettere in sicurezza Velle Ruggeri nel tratto fino alla pista dei go-kart perché è pericolosa per pedoni e ciclisti, quindi anche quel tratto giù. A proposito, Waterfront, sindaco? Waterfront è già uscita la gara, entro fine maggio devono arrivare le proposte e quindi siamo fine marzo, quindi tra due mesi avremo i bozzetti del concorso di idee e dopo estate pensiamo di essere riusciti ad individuare i progetti che selezioniamo e su quella poi ci concentriamo sulla progettazione di fattibilità e gli esecutivi perché abbiamo previsto delle risorse come abbiamo già anticipato per i primi stracci sia per la parte a Monte, diciamo, Lido-Sassoni e per la parte di Torrette-Ponte-Sasso. Abbiamo un'altra telefonata per lei, buonasera. Ci sente? Sì, sì, buonasera. Eccoci qua, buonasera a lei. Buonasera, signor sindaco. Buonasera. Disturbarla, ma le devo... Prego? Sì, la sentiamo. Sì, mi dispiace disturbarla, ma devo comunicarle una cosa. Io abito a Ponte-Sasso, esattamente dove c'è un grande parcheggio e c'è un sottopasso per arrivare al mare, non so se ha presente la zona. Ecco, allora io questo sottopasso, avevo già comunicato questo problema l'anno scorso e non ho risolto niente. Stanno cadendo i pezzi di cemento. Se passa qualcuno che gli cade in testa un pezzo di questo cemento, dopo sono casinili. Guardi, ha perfettamente ragione, sono venuto di persona a vedere. È il sottopasso numero uno, mi pare che si chiama. Sì, adesso non so, numero uno, numero due, però le dico, sono venuto personalmente una mattina a fare un sopralluogo a vedere, gli uffici a cui ho chiesto di intervenire ovviamente prima dell'estate, mi hanno garantito che interverranno, quindi spero di non essere smentito, però le garantisco che la seguo personalmente, tant'è che sono andato io di persona a fare un giro a vedere. Se sapevo venivo a darle la mano, se non altro, a salutarla. Però con alcuni residenti ho parlato perché erano lì, devo dire anche loro l'avevano segnalato, ma lei ha perfettamente ragione, anche lo scorso anno è stato segnalato, gli sono arrivati lunghi per cui adesso interveniamo. Ripeto, se ci sono degli incidenti che fanno male a qualcuno, io penso che il problema sia creato dai treni che passano in continuazione, perché io da qui abito dal 2003 e è sempre stato in buone condizioni fino a 4 o 5 anni fa. No, dopo sa cosa succede anche con la pioggia quando si crea una crepa. Ah sì, ma infatti è indecente proprio, è partito tutto quello strato che c'era di Roma, che si faceva evitare di scivolare oltretutto, insomma, contiamo su di lei, signor sindaco. Grazie signora per la segnalazione. Sindaco, una domanda che mi piace molto e che le fanno, tutti rimproverano sindaco, ma il sindaco ha qualcosa da rimproverare a noi? Le faccio pensare un attimino perché dobbiamo andare in pubblicità, poi quando rientriamo ci dà la risposta, tra poco. E siamo tornati in diretta, sindaco ci siamo lasciati con questo messaggio, tutti rimproverano sindaco, ma il sindaco ha qualcosa da rimproverare a noi? Beh, devo dire una domanda simpatica, mi vengono in mente due cose, una che siamo troppo litigiosi su tutto, non c'è una volta anche sulle questioni più banali, dobbiamo sempre dividerci, e l'altra cosa, se mi sento di rimproverare, è che troppe volte vedo persone che non rispettano il nostro patrimonio, anche con i piccoli gesti. Adesso ho ripreso un po' a correre perché mi ero un po' appesantito, correvo per la campagna, ho visto al lato della strada buttare per terra una trave, ecco, queste cose mi feriscono, mi dispiacciono, perché se ognuno di noi fa un piccolo gesto, delle piccole cose, preserveremo e tuteleremo meglio il nostro patrimonio, perché alcune volte c'è questa concezione che le cose nostre sono nostre, le cose di tutte non sono di nessuno e quindi possiamo non rispettarle, no, le cose di tutti sono di ognuno di noi e quindi dobbiamo volergli bene come se fosse il giardino di casa nostra. Allora mi viene in mente una frase celebre, quella di Kennedy, quando in un famosissimo discorso disse non chiedere cosa l'America può fare con te, ma chiediti cosa tu puoi fare per l'America. Ecco, se qualche volta ci facessimo ognuno di noi questa domanda, sono convinto che saremo tutti più bravi, a cominciare dal sindaco, che giustamente deve essere rimproverato perché si guarda sempre le cose che non vanno e quelle che abbiamo fatto, buone, vanno subito nel dimenticatoio, ma è giusto che sia così perché la sfida è quella sempre di migliorarsi, pur nelle difficoltà e nelle complessità. Grazie a questo cittadino che è stata una bella, una simpatica domanda. Abbiamo invece un'altra telefonata per lei, buonasera che c'è in linea. Buonasera. Buonasera. Buonasera sindaco, io mi aggancio alle ultime parole del sindaco, sono un assist perfetto per la domanda che volevo fare, che riguarda Fano Città dei Bambini, chi più dei nostri bambini sono il patrimonio e Fano ha il merito, il vanto di poter essere la città che si è fatta portavoce di questa iniziativa. Qua però arriva la nota dolente, nel senso che i nostri bambini oggi sono un patrimonio recluso, sono un patrimonio sospeso, i nostri figli non vanno a scuola, i nostri figli sono davanti al computer per ore e questa è una problematica importante davanti alla quale non ci possiamo nascondere. E allora chi meglio del sindaco della città che ha i bambini come capifila, che annualmente porta i bambini in consiglio comunale per dare loro spazio. Ecco, adesso il dovere è nostro, cosa possiamo fare noi per i nostri figli? Dobbiamo a mio avviso cominciare ad alzare il dito e dire non va bene così, non va, perché ce lo dice Pavia, ce lo dice il direttore del reparto di neuropsichiatria infrantile, basta vedere l'espresso di questa settimana, più 30% di casi di disagio psichico e questa è solo la punta di un iceberg, ce lo dice la cronaca, ce lo dicono gli accoltellamenti nel Lazio, feriti, giovani e purtroppo vicende che non ci sono lontane. Noi dobbiamo essere bravi, siccome fanno a questa cultura questa attenzione ai bambini, la mia domanda, la mia richiesta, la mia condivisione di questo pensiero con il sindaco è proprio quella, c'è qualcuno che ha il coraggio di alzare il dito e di dire ok, dobbiamo far tornare i ragazzi a scuola, dobbiamo garantire ai nostri figli qualcosa di diverso di questo tempo sospeso. Ecco, la preoccupazione del genitore è questa, la volevo condividere con chi si è battuto perché fanno diventasse, poi il discorso di fanno città dei bambini fa proprio capo all'ufficio del sindaco, quindi chi meglio di lui può farsi interprete e quindi io cerco una sponda, il primo cittadino di Fano può condividere questo pensiero e farsi portavoce perché le cose cambino, perché purtroppo e poi mi taccio, la prospettiva è piuttosto ridicola e ovviamente a livello nazionale intendo il sindaco non ne ha nessuna responsabilità e la mia telefonata è proprio appunto per cercare una sponda. Far rientrare i ragazzi fino alla prima media è pacchiano, non serve a nulla, ok? I ragazzi che soffrono sono tutti ma sono soprattutto gli adolescenti. Quindi ecco, l'invito, la richiesta è un padre di famiglia che è anche sindaco della città di Fano potrebbe farsi portavoce in un certo qual modo di questa esigenza per non trovarci poi come col Ponte Morandi o Capperi è caduto. La ringrazio perché giustamente ha detto sono sindaco ma sono anche genitore di ragazzi che vanno a scuola, anzi che non vanno a scuola, che fanno la DAD. La signora ha perfettamente ragione. Posso dire questo, proprio giovedì, per chi non lo sa io sono il delegato sanità dell'Anci Marche e quindi rappresento i sindaci nel tavolo delle questioni sanitarie con la regione. Proprio giovedì abbiamo un incontro con tanti altri sindaci, con la Commissione Sanità e il direttivo regionale dell'Anci proprio per parlare di vaccini, per parlare anche di queste cose perché è un elemento che stiamo ponendo come sindaci il far tornare i ragazzi a scuola, specialmente i più piccoli perché soffrono, devo riconoscere, sono straordinariamente bravi perché hanno fatto uno sforzo e si sono comportati veramente bene, però rischiano di pagarne le conseguenze. Quindi alla signora posso dire che non è che condivido di più e siamo in buona compagnia perché tanti altri sindaci condividono questa preoccupazione, c'è una forte spinta, magari non lo facciamo sulla stampa, lo facciamo negli incontri a tema proprio per cercare di far tornare il prima possibile i ragazzi. Spero che anche il Governo recepisca queste cose perché poi le ordinanze in questo caso rispetto al primo lockdown non sono effetto dei sindaci ma del Governo e delle regioni. Ma visto che ci siamo, ha citato anche la Fano città dei bambini, proprio questa mattina, prima mattinata, presto ho avuto una call con la Nuova Zelanda, sembra dall'esatta parte opposta dell'Italia, proprio per parlare a Fano città dei bambini, quest'anno è il trentennale insieme al professor Tonucci, che devo dire anche lui è un grande interprete di questa esigenza, delle conseguenze che il Covid sta portando anche nei comportamenti dei nostri ragazzi, in modo particolare quelli più piccoli. Perché quest'anno, come dicevo, ricorre il trentennale, stiamo organizzando alcuni momenti importanti, tra cui un incontro internazionale dove parteciperanno città e un po' di tutto il mondo, perché magari a Fano non ce ne rendiamo conto, ma sotto questo aspetto Fano è un simbolo importante. Grazie al professor Tonucci ha accompagnato questo percorso, ma nel 1991, quando iniziò questa esperienza con delle iniziative importanti da allora, con alti e bassi, risultati se ne sono ottenuti, poi è chiaro che non ci si accontenta mai, questo è normale, però devo dire che c'è una forte attenzione verso questa esperienza. Poi altre realtà sono stati più bravi, hanno migliorato, hanno ottenuto risultati anche più importanti, questo sta nella realtà delle cose. Quindi sarà anche questa un'occasione da maggio 2021 a maggio 2022 per una serie di appuntamenti importanti, alcuni veramente grandi, lo anticiperemo poi quando faremo la conferenza stampa di presentazione, perché sono in via di evoluzione, di organizzazione stiamo richiedendo anche partecipazioni sia istituzionali che non molto importanti, quindi ecco, anche questo sarà un elemento di vanto per la nostra città, ma soprattutto sarà importante anche per gli obiettivi che dobbiamo conseguire. Allora, non so se abbiamo un'altra telefonata in linea, ce l'abbiamo? Se no vado avanti con i messaggi. Sì, ce l'abbiamo, è pronta? Buonasera. Buonasera, chiamo da San Lorenzo in campo, a suo tempo ho fatto un'altra telefonata anche un'altra sera su un'altra tematica e avevo parlato anche con il sindaco di Fano, l'altra volta avevo parlato della ferrovia e quindi di questo collegamento che doveva partire da Fano, il mantenimento del collegamento Fano-Fossombroni, Pergola-Fabriano-Roma e quindi e quindi adesso in questi giorni anche leggendo sulla stampa ho letto un po' della posizione del sindaco di Fano che cerca di venire incontro alle esigenze della regione per l'eventuale spostamento di quello che erano gli intendimenti per l'eventuale pista ciclabile. Quindi è soltanto questo, in questo caso è un complimento, ma la mia osservazione di questa sera riguarda la sanità e in modo particolare il discorso, vorrei sapere attualmente qual è la posizione ottima, è la posizione del sindaco di Fano sul discorso dell'ospedale Marche Nord che i pesaristi vorrebbero lì a Muraglia. Io sono sempre stato contrario veramente a pensare di avere un ospedale per la provincia di Pesaro, per me pensare di questa provincia pensare in un ospedale di Marche Nord a Pesaro in una localizzazione completamente sbagliata. Quindi lei è contrario all'ospedale? Eh sì, no, contrario all'ospedale di Marche Nord è lì a Muraglia, perché non c'è senso, veramente anche dal punto di vista tecnico posso dire che Muraglia non è nelle condizioni. Quindi non sarebbe baricentrico come ha detto anche Ricci? Non solo baricentrico, ma anche dal punto di vista delle condizioni geomorfologiche, Muraglia non si presta molto bene, ci sono dei problemi di stabilità del suolo, una conflittualità dal punto di vista ambientale, non è assolutamente pensabile e questo un cittadino normale lo deve dire, lo deve dire pubblicamente, quindi se vogliamo un ospedale per la provincia di Pesaro, ad alta specializzazione che si vada ad affiancare a quello di Torrette, non è la localizzazione Muraglia, ben venga la localizzazione di cui si parlava, di quella Oshan, lì la zona del, mi fanno bell'occhi praticamente, nulla è meglio e questo un cittadino veramente lo deve dire con forza e sono contento che ci sia stasera il circo di Fano e ne tenga conto che i cittadini, quelli onesti, sono dalla sua parte in questo e poi veramente noi siamo veramente arrabbiati, non è che noi dobbiamo morire come pesaresi, non siamo pesaresi, la provincia è ben più vasta della città di Pesaro e su quello vorrei che questa sera il sindaco si esprima, il sindaco, su una certa posizione, abbiamo capito perfettamente quello che vuole dire. Cittadini che non sono i pesaresi, ha capito, questo lo dico, adesso lo vedo sul video, sindaco, noi siamo dalla sua parte, lo difenda, veramente perché un cittadino di San Lorenzo non è pesaresi, un cittadino di Fano non è pesaresi, veramente, anche perché poi quella localizzazione è sbagliata, lo dico alla funzione tecnica. Sì, lo ringrazio, su questo ho detto, ho scritto e ho preso posizioni e ho espresso votazioni molto nette e molto chiare. Intanto quando parliamo di ospedale, anche qui è cambiata anche la mentalità del servizio sanitario, quando parliamo di ospedale parliamo di acuti, io dico sempre, anche magari se volete in modo banale, però quando stiamo bene facciamo grandi discorsi, quando stiamo male cerchiamo ospedali con alta tecnologia e con alta professionalità, poi se lo ce l'abbiamo vicino a casa bene se no andiamo in capo al mondo per trovare questi servizi, perché noi siamo fatti così. Quindi è importante avere strutture di un certo livello e sono un atto democratico, perché poi significa aiutare anche quelli che possono e hanno meno strumenti, perché chi poi si può permettere gli strumenti poi va in capo al mondo e allora riuscire a fare delle strutture il più vicino possibile in determinati territori diventa un atto anche di grande democrazia. Detto questo io sono non d'accordo di più, ho sempre sostenuto che il posto più sbagliato per fare un ospedale di questo tipo potesse essere muraglia. E l'ho detto nelle conferenze dei sindaci, nell'assemblea dei sindaci, abbiamo votato e sono andato in minoranza, purtroppo anche senza il voto di alcuni sindaci di queste vallate, perché ce le dobbiamo raccontare queste cose. Perché paradossalmente queste due vallate hanno maggior numero di abitanti, maggior numero di sindaci e spesse volte si trovano in minoranza, quindi qualcosa non funziona, significa che dobbiamo avere più la capacità di fare sinergia e di guardare all'obiettivo comune. Le cose stanno cambiando ultimamente, c'è una maggior sintonia, stiamo progettando insieme su più fronti e questo è positivo. Però ecco, vorrei ricordare, l'avete riportato in tanti momenti, le dichiarazioni sono registrate, ci sono gli atti anche delle prese di posizione, io ho sempre evidenziato le criticità di quello spazio fisico, perché è un posto sbagliatissimo per farci, non lo dico solo io, lo dicono i geologi, lo dicono tante persone, il posto migliore è quello di Chiaruccia, il più baricentrico per, lo ricordava, lo segnalava anche il signore che ha telefonato. Lui chiama, ha detto da San Lorenzo, una piccola nota polemica se volete, nelle grandi battaglie contro Muraglia c'era anche l'allora sindaco di Pergola, che oggi è assessore regionale, è la sua grande occasione per poter trasformare e cambiare queste cose, scegliendo magari l'ubicazione più giusta. Allora, intanto ci scrivono anche da Pesaro, sono pesarese ma fare l'ospedale unico a Muraglia è una grande stupidaggine per togliere delle parole non molto carine, quindi anche qualche pesarese evidentemente. Sì, perché poi diciamo, non è qualche chilometro più in là o più in qua, perché abbiamo tutti la macchina, non è questo il vero problema, il problema è farlo nel posto più idoneo, questo sì, però ecco purtroppo non sempre abbiamo questa capacità di farlo, ognuno guarda il proprio orticello, ognuno vuole portare tutto nel proprio comune. Buche, località Torno, poi asfalto al Buario, ne leggo un po' perché ne abbiamo più o meno 200 da leggere, non credo di riuscirci in 10 minuti, Via della Marina è priva di segnaletica orizzontale, quindi è caso di intervenire specie negli incroci, poi ci segnalano anche Piazza Marcolini che versa in uno stato di semidegrado, anche lì il sindaco pensavate comunque di intervenire nel centro storico? Piazza Marcolini, ho già dato in carico, voglio il progetto esecutivo entro l'anno e appaltarlo, quindi Piazza Marcolini che è un altro gioiellino del centro storico verrà riqualificato, in questo momento ci stanno lavorando, stanno facendo i rilievi perché per poter fare il progetto è necessario fare i rilievi, per cui penso entro l'anno adesso di avere il progetto esecutivo sicuramente. Per il casellino invece di Fenile, ci sono delle novità, lei ha avuto tra l'altro dovremmo avere una fotografia, ha incontrato i parlamentari nei giorni scorsi per parlare di infrastrutture, quelli elezionati nel nostro territorio? Sì, ho chiesto un incontro ai nostri parlamentari perché fa non è mai stata così rappresentata anche in Parlamento, abbiamo quattro parlamentari, oggi uno anche sottosegretario, quindi faccio gli auguri anche di buon lavoro, per cui ci siamo incontrati, ho segnalato alcune questioni, fra l'altro quella del casellino è un'esigenza condivisa da tutti, una volta tanto c'è un'unanimità sull'importanza di questa piccola infrastruttura e lì si tratta solo di riattivarla perché l'ho ricordato in diverse circostanze, lì abbiamo un accordo, un protocollo, un accordo stato-regioni che prevedeva le opere compensative che abbiamo realizzato e un casello Fano Nord, la storia recente ce lo ricorda, poi ha avuto un diniego con la BAS, la valutazione dell'impatto ambientale ai vari livelli che è sempre stato confermato, quindi ho allora appena insediato sottoscritto il protocollo per avviare i lavori distinguendo i due interventi perché altrimenti saremmo oggi come a Pesora che ancora devono partire i lavori. abbiamo eseguito e ultimato tutte le opere compensative tranne il casellino però non avendolo realizzato non si è ottemperato l'accordo stato-regioni, quindi c'erano risorse previste e si tratta solo di riattivarlo. Noi avevamo iniziato perché poi c'era stato un problema col crollo del ponte di Genova, quindi i rapporti tra governo e società autostrade si erano interrotti. Avevamo ripreso i ragionamenti, poi ci sono state elezioni regionali, adesso visto che l'assessore regionale ha avuto un incontro romano, io ho chiesto anche ai parlamentari di farsi parte attiva perché qui si tratta soltanto anche di metterci una volontà politica per riattivare il tavolo, riprogettare il casellino che troverebbe anche una disponibilità che è un'attenzione anche per la VAS che è diverso rispetto al progetto rispetto a quello precedente, quindi ci sono tutte le condizioni per poterlo realizzare. Ovviamente dipende anche dall'acceleratore che tutti i rappresentanti a cominciare da quello regionale riescono ad attivare perché noi non possiamo farlo direttamente se non stimolando, ma la procedura deve essere riattivata dalla regione. A proposito di Stato, lei ha scritto tra l'altro anche a Draghi per cercare di fare dell'esipo dell'atleta di Fano alla bandiera del G20 della cultura, ha ricevuto risposta? Non ho ricevuto risposta però adesso ho scritto qualche giorno fa, immagino che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia tante cose da seguire, io lo comprendo, è difficile per un sindaco, prima il Signore diceva che è difficile parlare, poi io sono molto disponibile, però è anche vero che le persone sono tante e non si riesce sempre a farlo in tempo reale, ma ho scritto anche al Ministro Franceschini perché quest'anno ci sarà il G20 della cultura e sarà presieduto dall'Italia, a Roma saranno, previsti a maggio, ma adesso un giornalista di Sky, al quale ho girato la lettera, perché Sky, adesso vi do un'anteprima, ha realizzato un servizio bello nella nostra città sull'atleta di Fano, l'esipo, che andrà nelle giornate, adesso non so bene i giorni, ma nel periodo di Pasqua, quindi penso la settimana, fine settimana o la prossima, quindi gli ho mandato questa lettera e mi ha detto che probabilmente verrà procrastinato, però al di là del rinvio meno, ho chiesto con questa lettera di fare un simbolo di quell'appuntamento dove parteciperanno anche gli Stati Uniti, con il nuovo presidente o chi per lui, Biden, di fare un simbolo dell'atleta di Fano, di questo incontro, anche perché uno degli argomenti che verranno discussi sono proprio le opere d'arte trafugate, quindi l'atleta di Fano, l'esipo, ci entra a pieno titolo. Allora, via Bianchini che è tutta rotta, poi ci chiedono anche, nella strada della selva che è molto trafficata, è possibile mettere qualcosa per limitare la velocità? Stesso discorso ci hanno fatto anche per Sant'Andrea in Villis, perché lì ci sono delle abitazioni, le macchine vanno ad alta velocità e che devono più controlli ed eventualmente anche più multe. Per quanto riguarda invece la strada della selva, forse c'è anche un po' più di traffico perché è stata chiusa una parte dell'opera compensativa beghiato via Roma. Sì, perché sono dei lavori e quindi inevitabilmente passano di qua. Sa quelli fino a quanto dureranno? Adesso di preciso non sono in grado di dirlo, però vabbè, questa è la parte, erano già previsti, lo sapevamo, che avrebbero dovuto fare degli interventi, però è una cosa provvisoria, quindi poi si tornerà alla normalità. Adesso è inevitabile che ci sia un aumento di traffico in quella strada che rimane, la congiunzione breve tra la zona della Flaminia per andare verso Fenile senza dover passare alla nuova Interquartieri. Asilo ex Manfrini che fine fa? Cerchiamo di recuperarlo. Buonasera Sindaco, Ciclabile e Fanurbino, qual è la sua posizione? Ecco qui c'è un po' di polemica in questi giorni, in questi giorni che dice non scendare i capi di Baldelli. Poi al di là delle sfumature, delle parole più o meno dette, la mia posizione è chiara. Io ho sempre detto che la peggior cosa è quella di non fare nulla. Non deve esserci una guerra tra chi vuole la ferrovia e chi vuole la Ciclabile. Io sono per realizzare la ciclovia a lato del binario perché è fattibile, porta qualità della vita, è un'infrastruttura straordinaria, è bellissimo l'itinerario, non compromette i binari. Quindi sarebbe un peccato non realizzarla. Purtroppo la regione ha manifestato in questo senso la volontà di non realizzarla e di fare un processo, un percorso alternativo. Io, come tanti, abbiamo visitato anche altre città europee. Vedo, mi viene in mente, è andato per un convegno a Bilbao dove c'erano piste ciclabili a fianco ai tratti di binari molto utilizzati e, devo dire, molto apprezzati. Ci sono anche formule di trasporto su rotaie elettriche leggere che non creano danno. Per cui, se non si realizza la ciclovia, il progetto a lato della ferrovia, perdiamo una grande occasione e penso che si darà un dispiacere anche ai tanti cittadini che la vogliono e penso che siano una grande maggioranza. Allora, dobbiamo… sì, ce l'abbiamo, una telefonata per lei. Buonasera, chi c'è in linea? Buonasera, signor Sindaco, sono Ugodiana. Buonasera. Buonasera. Senti, io la chiamo appunto per una situazione che ormai si ripete da anni e ho fatto anche delle comunicazioni presso il comune e dove abito io, per parole, al 22 c'è una pianta che purtroppo è cresciuta in modo smisurato e le radici purtroppo vanno a distruire quelle che sono poi le fuoriuscite per la fogna e quant'altro. E ogni po' di tempo devo chiamare appunto qualcuno per poter far venire a ripulire perché siamo veramente invaci da queste radici. L'albero purtroppo è troppo vicino, attivo alla casa rispetto a quelle che sono per dire le altre case che sicuramente non hanno questo problema. Ed è una pianta che veramente diciamo è di enorme proprio crescita. attualmente guardando anche sulla strada ci sono delle crepe che proprio sembra che le radici stiano proprio appunto aprendo anche la parte dell'asfalto. Io ho fatto queste richieste perché comunque sia non è una pianta protetta. Non voglio entrare nel merito di quelle che possono essere piante da battere o meno, però che un provvedimento ci possa essere. Sì, lei l'ha segnalato all'amministrazione, agli uffici? Sì, sì, sì. L'ha segnalato. Mi ha detto che mi è sfuggita la via. Adesso non so se... Vi ha le tante ligheri. Ah, le tante ligheri. Sì, sì. Io in quella... Poi sono capitato, sono venuto anche su al Comune, però ho citato, sono stato all'Adet, è stato un pochino un ribaltino perché io più che altro volevo una risposta in virtù anche di quello che io avevo scritto dicendo per dire che è una situazione che bisogna quantomeno sanarla. Io capisco perfettamente... Sì, abbiamo capito. Grazie, grazie per questa situazione. Sì, con le piante è sempre complesso, devo dire la verità. I casi sono diversi, non è semplicissimo, però adesso faccio riverificare. Sì, abbiamo pochi minuti a disposizione, ma ancora le devo chiedere qualcosa. Allora, intanto la croce tra Falcinetto e Cucurano è sempre pendente e pericolosa. Lo so, ci sono passato, ho fatto una corsa proprio lì qualche giorno fa, è vero. Quindi ha visto con i suoi occhi. Poi chiedono i lavori allo stadio e alla piscina, così cerchiamo di raggruppare un po' i messaggi. Sì, allo stadio stanno lavorando, adesso stanno lavorando vicino allo spogliatoio. Comunque, i lavori per l'inizio del nuovo campionato, diciamo, dopo l'estate saranno tutti ultimati. Secondo calendario. La piscina sta procedendo i lavori, anche lì ovviamente sono previsti l'ultimazione dei lavori per fine anno. Ma mettiamo anche inizio dell'anno nuovo, insomma, siamo nella giusta direzione. In tanti ci hanno richiesto il parapetto del ponte sul Fosso Carrara-Falcinetto, da dove deve arrivare, sono più di due anni che è stato abbattuto. Sì, sì, è quello vicino alla croce. Esatto. È un tutt'uno. Guardi, ne ho parlato adesso, purtroppo lo ripeto, anche la volta scorsa l'ho ripetuto, ho chiamato anche i tecnici per fare intervenire. Mi hanno garantito, insomma, che lo facevano fare adesso. Allora, ci stanno chiedendo anche per tante strade, per l'asfalto. Sindaco, facciamo la promessa che poi ritorna la prossima volta con il piano. Ho portato un elenco importante, però posso garantire che le telefonate fatte qua non sono state inascoltate. Non tutte, perché è impossibile, non abbiamo le risorse sufficienti per coprire tutte le esigenze, però daremo una bella risposta. Ci dicono anche assembramenti a bell'occhi falcinetto. Quindi, insomma, quello che è successo è un po' in questa settimana. Visto che ci avviciniamo anche alle giornate pasquali, faccio un appello sentito. Cerchiamo questi giorni, alla fine ci dobbiamo riposare, di non andare tutti negli stessi posti, anche perché non si può. Ci saranno maggiori controlli, anche interventi se sarà necessario. Quindi facciamo questo sforzo per poi avviarci all'estate, verso l'estate, con i giusti allentamenti che ci saranno. Però ecco, queste giornate abbiamo sentito anche in apertura di questo incontro i numeri importanti dei positivi e delle quarantene. Poi ci sono quelli che sono positivi e non lo sanno, quindi che si aggiungono a questi numeri. E allora ecco, se è importante fare una settimana in più, facciamola e facciamola ben bene per ridurre il tempo. Alcune volte è meglio fare un passo indietro per farne i due in avanti subito dopo. E magari quei due in avanti li potremmo fare anche nei bei posti della città di Fano, ad esempio la darsena borghese dove sono partiti i lavori. Cerchiamo di far vedere anche poi le immagini del Lido perché si fosse perso i nostri servizi. Stavo dicendo che la città è un cantiere aperto, è vero, perché oltre a quelli richiamati prima, quelli che dovranno partire, questo è un cantiere partito da poco, qui si farà un bel lavoro, sarà un bel gioiellino per la città, io penso che quando avremo finito verrà apprezzato. È solo un primo stralcio che arriva fino al ponte. Poi partirà la parte successiva che è opposta. Invece la cavea del Lido, anche lì sono state... Anche qui si stanno facendo dei lavori, ci sono attenzioni, sono tolte le siepi, poi piantate l'illuminazione, quindi cerchiamo di rendere questa città sempre più bella. Sindaco, chiudiamo con gli eventi, perché io ho saputo che in realtà vi state già muovendo per cercare di organizzare qualcosa durante l'estate, sicuramente in maniera diversa, però cercare di rendere... Sì, noi non ci fermiamo mai, bisogna dire la verità. Lo sentiamo anche fisicamente, perché poi è un impegno pesante. L'assessore si sta lavorando, perché garantiremo, come la scorsa estate, fanno in plenare, che è stato un bel successo, devo dire, una bella partecipazione in sicurezza. Le cose hanno funzionato e quindi replicheremo questa metodologia. Stiamo programmando tutta una serie di eventi in sicurezza. È chiaro che alcuni non sono proponibili, ma li faremo in maniera più leggera, dove ci saranno meno assembramenti, dove non ci saranno assembramenti, però garantiremo un'estate degna della città e dei turisti che verranno. Quindi speriamo anche nelle vaccinazioni che possano proseguire. Esatto. E voglio anche ringraziare tutti coloro che sono parte attiva, perché c'è un lavoro anche di condivisione, di coinvolgimento dell'associazionismo, che fanno un lavoro importante, delle categorie, perché ci sono dei tavoli dove condividiamo anche i percorsi, per cui devo dire che è stato fatto un buon lavoro. Adesso c'è anche questo progetto, anche di promozione turistica, che non è solo fanese, è territoriale, che ha trovato molti consensi. Devo dire anche attenzione da varie parti d'Italia che hanno chiamato per seguire questo modello su cui stiamo lavorando. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Grazie e buonasera a tutti. E a questo punto buona Pasqua a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento. Vi ricordo che tra poco alle 22.30 andrà in onda la replica del telegiornale, quello di mezzasera, invece domani mattina il direttore Marco Ferri tornerà in diretta alle ore 7 per la rassegna stampa. Buona serata a tutti, Sindaco, grazie. Alla prossima. Grazie. Grazie.